E' stata una seduta di piena commozione, quella che il Consiglio regionale della Toscana ha voluto dedicare alla commemorazione di Massimiliano Pescini, il consigliere regionale e vicepresidente del gruppo del Partito Democratico, prematuramente scomparso il 25 maggio scorso in seguito ad una breve malattia. In aula si sono riuniti i consiglieri regionali, il presidente e la giunta, i sindaci della circoscrizione in cui è stato eletto e la sua famiglia. Pescini, che prima di essere stato eletto nell'Assemblea Toscana aveva ricoperto tra i vari incarichi anche quello di sindaco di San Casciano Valdipesa, avrebbe compiuto 50 anni il prossimo settembre. Sul suo scranno vuoto in consiglio un mazzo di fiori e il ricordo dei suoi colleghi. È stato un passaggio difficile, un consiglio carico di commozione, di carica emotiva, dove tutti hanno reso omaggio a Massimiliano Pescini come uomo, ancora prima che come collega, come compagno, come amico. Massimiliano ci ha lasciato causa una malattia terribile in soli 60 giorni e questa malattia si era manifestata proprio durante i lavori di un consiglio. Il ricordo e il patrimonio che lui ci lascia è quello di una bella faccia della buona politica, della politica fatta con generosità, della politica fatta al servizio della comunità. Massimiliano era sempre con il pensiero rivolto ai bisogni dei territori, ai bisogni della sua comunità, sia quella civile sia quella politica. Insomma, una persona che aveva in mente la politica come servizio e praticava la politica come servizio. Ovviamente siamo rimasti tutti molto scioccati, frastornati dalla velocità e dalla crudeltà che la vita a volte riserva e soprattutto ha riservato a lui. Abbiamo rivolto nuovamente un grande abbraccio affettuoso alla sua compagna, a babbo, alla mamma, alla sua famiglia, a tutte quelle persone che a San Casciano e in Toscana gli avevano reso un grande omaggio, un grande abbraccio con una partecipazione straordinaria e commossa, come anche questa mattina abbiamo visto in aula. Io vorrei ringraziare tutti quelli che sono intervenuti ricordandolo con parole bellissime ma appropriate, compresi i rappresentanti delle minoranze, a dimostrazione che si può fare la politica con il ragionamento, si può fare la politica basandosi sulle idee e confrontandosi sulla bontà delle proprie convinzioni. Ho fatto l'unica cosa che si poteva fare in questa circostanza, cioè raccontare la verità. Io con Massimiliano avevo un rapporto politico da tre anni, un rapporto personale di amicizia da dieci, quindi ovvio che i miei ricordi stiano più fuori dall'aula che dentro. La stranezza di questo rapporto, ho raccontato un episodio che racconto volentieri anche a voi, perché la dice lunga su quanto sia strana a volte la vita. Io ero reduce, sono reduce da una campagna elettorale fatta in quattro regioni, in giro per la Toscana, l'Umbria, le Marche e il Lazio per le elezioni europee. Massimiliano lo sapeva e a battuta mi ha detto quando vieni a San Casciano, non passi da San Casciano, dimmelo che vengo a darti noia. Alla fine la tornata elettorale ha voluto che il giorno scelto per andare a San Casciano fosse proprio il giorno in cui Massimiliano è morto. Per me questo vuol dire qualcosa. È un messaggio su quanto è strana la vita, ma su quanto a volte le coincidenze siano incredibili. Niente, in questo attimo ho raccontato questo, ho raccontato l'amicizia che ci legava, ho raccontato le vostre delusioni quando ci intervistavate perché non riuscivate a farci litigare, perché era difficile litigare, perché siamo delle persone che cercano sempre di trovare un punto di confronto e di mediazione e non di rimanere arroccati sulle proprie posizioni. La Toscana, non soltanto il Partito Democratico, la Toscana perde una risorsa importante per tutti. Sì, credo sia veramente impossibile dividere l'uomo dal politico. Massimiliano Pescini rappresenta la buona politica e ha sempre rappresentato una qualità altissima sia dal punto di vista intellettuale che dal punto di vista di volontà nel capire e comprendere gli altri. La capacità dell'ascolto che poi si trasformava in azione politica. In realtà non è il discorso dell'insediamento, ma è il discorso che fece ai volontari, a chi si era mobilitato e aveva lavorato per la sua campagna elettorale alla fine di questo percorso. Devo dire che rappresenta proprio quella che è la visione di Massimiliano della Toscana, di una terra che ha sempre a cuore non solo quanto c'è da fare, ma anche quanto è stato fatto. Ricca di storia, di sacrifici, ma anche consapevole che il futuro deve essere trovato lavorando e conoscendo gli altri. Massimiliano era prima di tutto un amico, un politico, una persona intelligente che utilizzava la sua intelligenza a servizio degli altri, il senso dell'appartenenza al proprio partito, alla nostra comunità, a quella del Consiglio regionale della Toscana, un sindaco al quale il proprio territorio voleva bene ed era una persona che ha lasciato un ricordo incredibile in tutto il Consiglio regionale e credo che sia stato un atto di dovere istituzionale e dovere fermarsi, ricordarlo e soprattutto portare alla memoria della nostra regione una figura di un valore politico di altissimo livello. È stata una commemorazione bella venuta dal cuore da parte di tutti. Io non lo conoscevo benissimo se non in questi tre anni e mezzo del Consiglio regionale e quindi quello che posso dire io è marginale. Però, vista l'afflato con cui tutti si sono espressi, ho cercato di posporre i miei sentimenti a una frase del Foscolo che è poca gioia nell'urna chi non lascia eredità di affetti e lui ne ha lasciati veramente tanti. In Consiglio regionale la surroga con Fiammetta Capirossi che prende il posto di Massimiliano Pescini. La neoconsigliera, prima dei non eletti della lista del Partito Democratico nella circoscrizione Firenze II prende il posto in Consiglio regionale. Si tratta di un ritorno sui banchi del parlamentino toscano dove Fiammetta Capirossi aveva seduto nella scorsa legislatura dal 2015 al 2020 facendo parte delle commissioni Affari Istituzionali, Controllo ed Europa. Arriva dal Mugello nata a Scarperia e ha ricoperto il ruolo di assessore nello stesso comune dal 2005 al 2015 portando avanti l'importante processo di fusione con il comune di San Piero Assieve. Oggi è stata una giornata veramente molto complicata stamattina per un motivo e oggi pomeriggio con il mio sediamento per un altro. Pensavo di essere più forte invece oggi mi sono scoperta molto più debole di quello che non credevo perché avevo promesso a me stessa e avrei dato onore a Massimiliano cercando di non piangere invece così non è stato e ancora faccio fatica. Sono felicissima di poter rendermi utile nel mio territorio so che Massimiliano mi avrebbe detto Fiamma, vai e fai quello che sai fare quindi con questa spinta e con l'abbraccio dei familiari stamani che per me è un conforto incredibile spero di poter essere utile per il mio territorio per la regione e per il mio partito che mi ha sempre sostenuto e per cui ho sempre lottato. Nell'ultima seduta del Consiglio anche il saluto di Ilaria Bugetti neo eletta sindaco di Prato che ha partecipato alla commemorazione in ricordo di Massimiliano Pescini e reso il suo saluto al Consiglio regionale che lascerà per il nuovo incarico. Sicuramente il suo carattere che io ho apprezzato sempre tanto l'ho descritto così la sua calma la sua riflessività la sua gentilezza la sua pacatezza sono doti che io nella politica apprezzo molto perché secondo me sono quelle che servono per mettersi in ascolto con le persone. Quindi il lavoro che lui ha fatto era il mio vicino di banco le lunghe chiacchierate e quindi il non fermarsi mai all'amparenza alla superficialità ma andare in profondità alle questioni è un qualcosa di cui la politica ha un grande bisogno oggi e cercherò di portarlo nel cuore. È sicuramente una grande emozione per me con un po' di nostalgia un saluto a tutti i miei colleghi che mi hanno accompagnato in questi bellissimi anni un ricordo particolare va a Massimiliano Pescini e quindi con il mio cuore è un piccolo pezzo della vittoria lo dedico anche a lui che mi è stato a fianco e che ci aveva creduto e che mi aveva spinto in questa avventura quindi sarà sicuramente un momento per me commovente ma con il ricordo e con l'esperienza che mi porto dentro che sicuramente mi sarà utile per quello che andrò a fare da domani praticamente quindi il ricordo delle leggi fatte del lavoro fatto abbiamo iniziato questa legislatura in piena pandemia quindi con alcune urgenze che ora sembrano lontane anni luce ma che in quel momento erano davvero difficili da gestire fino ad arrivare poi ad una normalità e quindi a lavorare e programmare con tutta una serie di leggi che per questa regione sono state secondo me importanti quindi il mio piccolo contributo da presidente è l'onore di aver servito questa regione perché davvero una grande grande soddisfazione per me ad Arezzo ritorna l'appuntamento estivo con la quarta edizione del premio Aquila d'Oro città di Arezzo in programma lunedì 8 luglio nella cornice della fortezza medicea sì infatti sottolineerei questo aspetto è un premio un bel premio ma c'è dietro una società la ginnastica Petrarca che nella nostra città ha fatto davvero la storia sono più di 300 gli atleti che quotidianamente si avvicinano allo sport grazie anche all'attività dei tanti volontari e dei tanti professionisti della società Petrarca quindi questo è il momento culmine nell'anno che sintetizza il valore dello sport che però durante tutto l'anno nel nostro territorio fa davvero tanto innanzitutto diciamo che è una felice abitue perché anche lo scorso anno vi è stata qua la presentazione del premio Aquila d'Oro indubbiamente uno degli eventi di punta della estate a retina che gioca tutto sui valori delle fair play della correttezza dell'etica questo è fondamentale nel mondo sportivo ma nel mondo tutto cerchiamo di essere corretti e cerchiamo di aprire questo palazzo alle migliori iniziative sicuramente il premio Aquila d'Oro lo è il mio applauso alla ginnastica Petrarca che è sicuramente una delle istituzioni più importanti del territorio aretino tutta la città di Arezzo si lega alla ginnastica Petrarca per quello che è stata in grado di fare nel corso di questo lungo periodo l'evento vedrà la partecipazione di grandi ospiti tra i quali l'olimpionico Igor Cassina per una manifestazione che racconta storie virtuosi di atleti di personalità del mondo sportivo questo evento è un evento che si traduce in uno storytelling vuole raccontare storie non va a valorizzare palmares titoli e sono storie di eccellenza valoreale in particolare i valori che verranno premiati riconosciuti in quelli che sono stati i percorsi di tanti giovani atleti sono impegno e determinazione etica e fair play e resilienza perché lo sport è prima di tutto passione gioia divertimento e ci aiuteranno a comprendere questo un attore presentatore showman come Sergio Sgrilli che è conduttore e regista della serata con al suo fianco Gene Gnocchi sport è un contenitore di valori non troppo sovente ci soffermiamo a considerare questi valori quindi noi cerchiamo di dare risalto pubblicità ed evidenza a quelli che sono i valori insiti nello sport noi lo sappiamo e come CONI abbiamo una sezione particolare dedicata ai più giovani e quindi andremo a premiare quello che è stato individuato attraverso una votazione social come il giovane più interessante più promettente nel panorama dello sport aretino il attraverso una notte attraverso una notte di farla di farla di farla Grazie a tutti.